E' merito nostro, comunque insomma la partita era difficile in partenza, si è dimestrata sul campo, siamo contenti di aver vinto e speriamo di poter continuare anche se non è facile, non abbiamo raggiunto niente con questa vittoria ancora. Dino, in che momento avete avuto la sensazione che l'incontro fosse concluso a vostro favore? Beh, sul 2-0 certamente avevamo una certa tranquillità, per cui affondavamo il contropiede, abbiamo avuto anche qualche altra possibilità, d'altra parte è finita 2-1, un gol un po' contestato. Ce lo racconti? Beh, c'era un uomo che era sul pallone, l'arbitro l'ha mandato via, ha detto che ci pensava lui, invece mentre si allontanava, passarella tirato e purtroppo l'arbitro l'ha ritenuto valido. Non è stato tanto corretto, ma accettiamolo.